Poi non ha pari da più Non ha pari da più C'è tipo riferimento di fatti Da lì Raspiro la donna E' una bambina a piedi Perché lì lo sa La bambina ha fatto tutto a fuori Il mio popolo E' lì E' un uomo Così c'è No, non male E' un'attività Non è più condizionale Non vuoi riuscire a capire Non vuoi riuscire a capire E' un uomo E' un uomo Ma non vuoi riuscire Metti a scrivere, metti a urbano Fuori Vai Da giù E' un uomo 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 un po' loro, un cucchino, un cucchino, ma non è vero tutta questa roba, ma vattene a parte il tuo, mette la casa tua, mette la casa tua, mette la casa tua, mette la casa tua che finora, perché noi non ci stiamo, mette la casa tua, guarda, vila di qua, vila di là, la casa tua, dove una mia buona, io la faccio, a me mi lasci il nome di un glorioso che è, questo è il tuo, ti ha lavorato un po' bene, ti ha sudato un po' bene, ti ha dato qualcosa Gli ha l'adoro No, li ha sfruttato vero Voleggia per nessuno A vedere Chi è lavorato con me Li ha sfruttato sto vero E non darà Qui c'è un po' di indigrità Mando la pasta Mandoci dentro Vai 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 No, ce l'ho da tutta volta Abuso che non l'ha per quest'ora La rivoluzione è diverso Non c'è un soldato Si mi è mandato Si mi è risicato Si mi è risicato Si mi è risicato Ma si mi è risicato Ma si mi è risicato Ma si mi è risicato Si mi è risicato Si mi è risicato Si mi è risicato Oh 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 Zeus Oh 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 nel discorso la sostanza qual è?